Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Rosanna Banfi non ha vissuto mesi semplici ultimamente, visto che è venuta a mancar sua mamma, moglie di Lino Banfi. Un dolore che non è ancora riuscito a superare. Adesso però è avvenuto un nuovo fatto drammatico e la famiglia di suo zio è stata colpita da un gravissimo lutto. Lo ha rivelato proprio lei in un post pubblicato sul suo profilo personale Facebook, come riporta la nostrat.it. Nel post si legge questa frase. Per fortuna mamma non sei qui, così non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia. Rosanna ha rivelato che è morto a Manuel all'età di 18 anni. La sua morte ha lasciato di stucco i familiari. Lo sfogo dell'attrice Rosanna ha poi concluso il suo sfogo chiedendo la cortesia alla mamma scomparsa di tenerlo tra le sue braccia lassù in paradiso. La figlia di Lino Banfi crede che non sia assolutamente giusto che questo ragazzo sia morto. Ha anche rivelato che nonostante non sia una fervente credente vorrebbe tanto che ci fosse un dio per aiutare questa famiglia, che adesso è sconvolta.